Test di utilizzo di due borse, una tessuto, una pelle, una pochette e una borsa a mano, Philly Beats Salar Milano Quando ho visto queste borse ho avuto un po' la questione di mi piace tantissimo, è una cosa stranissima perché il mood proprio su cui è incentrato questo brand, Philly Beats, è davvero particolare Philly Beats è un brand italiano nato dalla passione dell'architetto Philly Cusenza per la fiber art Dopo aver realizzato opere d'arte in tessuto per musei di tutto il mondo, Philly Cusenza ha deciso di declinare la sua arte in moda Per questa ragione nel 2016 ha fondato con la figlia Noemi Blando, laureata in marketing, un brand di nicchia per amatori della moda, dell'arte e del colore Dal 2019 il team si è allargato con Federica Blando, seconda figlia dell'artista modellista Le fondatrici sono queste tre bellissime foto e soprattutto questi volti di donne particolari La borsa che ho scelto io in realtà è una pochette, il modello appunto Philly pochette in cotone pagato a 52 euro Ci ha messo un bel po' di tempo per arrivare con questa immagine di questa donna che ride, che vedremo fra poco Decorazione realizzata a mano dalla designer artista Philly Cusenza Per questo motivo ogni pezzo è da considerare come una creazione unica e può essere soggetta a delle piccole differenze Proprio come un'opera d'arte, taglia 19 x 17, è un 100% cotone Reso deve essere dopo sette giorni dall'avvenuta consegna La cosa che ho notato anche sul sito è che è come se i dettagli, vuoi le cuciture, vuoi piccole cose Siano fatte volutamente in maniera grossolana o comunque non perfetta Proprio per riportare al concetto dell'arte Passiamo ai voti Per la tintura, il mio voto è zero perché la tintura non c'è, il manichetto è fatto di tessuto Proprio come tutta la struttura Per le cuciture, allora se devo guardare su un fatto tecnico dovrei dire zero Se devo guardare dal punto di vista, vi faccio vedere perché sono riportate le cuciture Però è un fatto studiato e quindi per me è un 4,5 Per le rifiniture, mi piace tantissimo l'imballaggio, tutto quello che c'è dietro questo mood Per me è un 4,5 Per la valutazione qualità prezzo 4,5 Per la valutazione utilità è un 3,5-4 Ma dico perché? Perché sostanzialmente per la pochette, per come è piccola Ovviamente non ci può entrare tanto Però può essere un ottimo portatrucco per tante borse piccole che ho Per me la pochette, comunque il brand Philly Beats è assolutamente promosso Quando vai sul sito di Salar Milano, la prima cosa che ti salta all'occhio Quando vai a guardare la storia è proprio questa foto di questi due giovani Che vanno attirato subito, prima ancora di leggere la storia Nel 2010 Salar e Francesca hanno deciso di unire le loro passioni Abilità e competenze per fare di Salar un successo La conoscenza intrinseca del prodotto, la sua creazione da un lato Il marketing e la comunicazione dall'altro Il brand nato a Milano è stato immediatamente riconosciuto da Vogue Italia Come uno dei migliori brand emergenti L'approccio sperimentale dei due designer dona al brand uno stile inconfondibile Spesso veicolato tramite materiali atipici della pelletteria E tramite processi di altre sfere che danno vita a un design unico La borsa che ho scelto è un modello Ludo Snake pagato a 240 euro Borsa media a tracolla in pelle Tasca interna, tracolla regolabile in pelle, manico singolo in pelle Chiusura magnetica, scatto, composizione, vitello stampato, serpente Completamente made in Italy E all'interno c'è la flanellina logata E la borsa è fatta così È una bomboniera ed è molto classica All'interno troviamo questa micropatta con le calamite a scomparsa Che ritroviamo anche poi all'interno Ovviamente con tutta questa parte qua Che tende praticamente a evitare che si vedano le calamite o i bottoni esternamente All'interno c'è la tracolla Per la tintura il mio voto è 4 Per le cuciture, devo essere sincera ma è un fatto di gusto Le cuciture sono fatte bene Non mi piace il tipo di punto Però questa è una malattia mentale Che a seconda delle macchine che si usano ci sono dei punti Non mi piace moltissimo il punto Però comunque le cuciture 4,5 Per le rifiniture Il mio voto è 4,5 Mi piace molto la flanellina, la scatola Tutti questi accessori estremamente chic Molto molto belli e ricercati Per la valutazione qualità prezzo Il mio voto è 4,5 È una borsa che costerebbe a prezzo pieno 480 euro Per la valutazione utilità Per quello che le faccio io delle borse Mi hanno preso anche in giro in filo di impossibile È un 3,5 La borsetta non da lavoro Per me il brand Salar Milano È assolutamente promosso In questo video parleremo del test di utilizzo Che ho fatto a queste due borse che ho acquistato Questo video non è sponsorizzato Come tutti i video che poi trovi sul canale YouTube Ho tutte le cose, i post che trovi un po' in giro sui social Io sono Ornella Ozzino Produco borse per altre Per amore del mio lavoro Racconto tutto quello che c'è dietro al mondo delle borse originali Ovvero vendute e prodotte attraverso il mercato legale Di originalità in questo video In questo test di utilizzo ce n'è tantissimo Se vogliamo parlare di design Se vogliamo parlare di Particolarità del prodotto Di ricerca e di tutto il resto E per di più queste due borse Si assomigliano anche per Quotazione di mercato Quindi anche per fasce di prezzo Infatti sia la borsa di Philly Beats Che quella di Salar O in generale le borse di questi due brand Hanno un punto prezzo bello alto Bello alto insomma Che nella media di un made in Italy Ricercato, nonno scopiazzato Dove magari c'è un'azienda dietro Iper strutturata e tutto il resto Quindi fantastici progetti Che vanno sostenuti Ed è per questo Che io pago Per comprare le borse Il video appunto Non è sponsorizzato In questo senso Quindi ho comprato sia La pochette di Philly Beats Che la borsa di Salar Milano Partiamo proprio La pochette di Philly Beats Che è una pochettina Molto molto particolare Unica pecca Che diciamo Questa è dovuta sempre Alle mie incapacità Di gestire le dimensioni E che è un po' piccola Rispetto a quelle che utilizzo Di solito Un po' più grandi Guardiamo il test di utilizzo E poi torniamo qui Nella pochette Di Philly Beats Queste mani rovinate Sono riuscita a mettere Perché l'ho usata Anche molto con delle borse Aperte sopra Grandi E quindi ho messo Il portafoglio Questo qui di Rery Le chiavi di casa Una scherina che non guasta mai E il caricabatterie In alcuni momenti Ho sostituito Poi il portafoglio Magari con il cellulare Oppure con L'ho usata come portatrucco Al posto di questa qui Però mettendo soltanto Un pennello Il fard Il fard Sono un po' Tical blush E un rossetto Un rossetto Burro cacao Insomma L'ho usata in vari modi La particolarità di questa pochette È data proprio dal suo disegno È ovvio che è una pochette di tessuto Come hai visto nella preview Appunto c'è tutto uno studio dietro Le imperfezioni Le irregolarità Che vedi pure sulle cuciture Tutto il resto Sono parte Proprio dell'estro Di questo brand Se senti i rumori di sottofondo Non ti spaventare Stavo facendo il lavoro Qui attorno Quindi Dobbiamo sopravvivere Anche ai cantieri Molto utile Portata a mano Ma è particolarmente utile Anche quando in borsa Magari hai dei gancetti E poi Appunto utilizzare Questa parte qui O questo proprio Il laccio Che ha appeso Come tiralampo Per poterla agganciare Ad altre pochette E poterla ritrovare Velocemente Per me è un brand Che mi sento di ripromuovere Dico che se dovessi comprare Un'altra borsa Sicuramente Un'altra pochette Ne acquisterei Una più grande Ma se vai sul sito Che è super super figo Molto strutturato Bello C'è tutta la descrizione Tutto il resto Trovi tutta una gamma prodotti Molto molto particolare Passiamo adesso A questa borsa Questa borsa Che ho avuto modo Di testare Finalmente Nelle riaperture Che si va a cena Che uno esce Insomma C'è stato qualche incontro Di lavoro Anche Con il panzone Quindi Ho avuto la possibilità Di testarlo Ed è una borsa Molto particolare Di per sé È leggerissima Quindi si porta facilmente Non dà Tanti problemi L'unica cosa Che ho fatto Come noti È stata quella Di far scendere Un po' di più La fascia Perché questa fascia È regolabile Poiché avevo bisogno Un po' più di spazio All'interno Invece di utilizzare Questo bottone Qui o questo Ho utilizzato il primo Per darmi più spazio Perché mi sono riportata La fascia E quindi allarga Un po' i laterali Di quando vado A mettere le cose Guarda il test di utilizzo E poi torniamo qui Salar Milano Allora Appunto Non ho usato La pochettina Perché Era Insomma Fastidiosa E nella borsa Sono riuscita a mettere Non ho usato Il portafoglio Quello lì Grande Perché è scomodo Salvettine Masturina Chiavi Il portafoglio Un po' più piccolo In dimensioni Io ho questo qui Che mi regalarono Quelle magnifiche Ragazze Non so se Ricordate Vediamo chi si ricorda E poi c'è La pochette portatrucco Che cambierò anche Questa breve E Il carica batteria E poi ovviamente C'è anche Il telefono Che adesso sto utilizzando Molto utile Le chiusure a scomparsa Che vanno Insomma Sono facili da richiudere Quindi fanno Questo movimento qua Di per sé E Quello che mi è piaciuto Tanto Come dicevo È proprio La questione Della vestibilità Facilmente Portabile Sia così Che In diagonale E poi La leggerezza Ovviamente Una borsa Non estremamente Capiente Ma ha proprio La funzionalità Di essere Insomma Da accompagnamento Da serata Sicuramente Non è proprio Da lavoro A meno che Ecco Non abbiamo Un'altra borsa Che ci dà una mano Per il computer I documenti E tutto quello Che ci serve Quindi possiamo Utilizzare Questa Per portare Il portafoglio Il cellulare Le chiavi Un po' Di make up Insomma Nei testi Di utilizzo Precedente Ho cambiato Anche la borsetta Del make up E non nascondo Che probabilmente La prossima Diventerà questa Perché Come dimensioni Ci siamo Un'altra cosa Che Mi piace E non mi piace Soltanto Dettata Dal fatto Che la borsa Comunque È aperta Quindi Bisogna Necessariamente Fare un po' Attenzione Quando la si Utilizza Perché Essendo aperta È vero Che c'è Questa cosa Però comunque Nel laterale È aperta Questa Si muove facilmente Quindi Tenere la borsa Sempre a portata Di mano O comunque Sott'occhio Non è male Nonostante L'utilizzo Va bene Molte di voi Quando hanno visto La recensione Che ti invito A andare a guardare Dopo che hai visto Questo video Se non l'avessi Ancora vista Hanno apprezzato Molto la questione Del pitone stampato Serpente stampato In generale Che è una cosa Ottima E che Continuo a dire Che comunque Io sono molto Per il cruelty free Magari Si deve veramente Approfondire Questo argomento Perché Ci sono Tante sfaccettature Di cui Molti Non Diciamo Non parlano Però È importante Anche che Dei brand Diventino Ecosostenibili Anche da Questo punto Di vista Per me A borsa Di Salar Milano Anche dopo L'utilizzo È promossa Una piccola nota All'atere Di questa borsa È soltanto Dovuta Un pochino Alla tintura Perché poi Guardando Dei dettagli Più stretti Alla tintura Alla pulitura Di certe cose Piccoli dettagli Tipo Qui c'è Un po' Di colla E poi C'era Un'altra Piccola cosa Che Quando ho Utilizzato La borsa Questo borsellino L'ho eliminato Perché Il mio cellulare Non c'entra Quindi Diciamo Verosimilmente Ci possa entrare Una scheda Con le carte Di credito Un paio Cioè Delle chiave O qualcosa Del genere Però Proprio Per fare spazio Alla borsa Io L'ho Eliminata Infatti Non è applicata Creare qualcosa Che magari Un po' Più Utile Quindi O metterci Già Delle carte Di credito Qua sopra In modo Che io Non porto Il portafoglio Ok Invece Di lasciarlo Così Che Magari Dovrei Sì È facile Mettere Carte Di credito Qua dentro Soldi E monete Però Magari Io Ho chiesto Un po' Più Per l'ordine Quindi Potrebbe fungere Da portafoglio Più che Da pochette Micro Che non serve Tantissimo Spero Che questo video Ti sia stato utile Ovviamente Se non sei iscritto Al canale Iscriviti Suggerisci Mi dei brand Dimmi cosa ne pensi Se conosci O comunque Hai utilizzato Anche dopo I video Che ti ho fatto Su questi due brand Hai utilizzato Queste due borse Io Ti aspetto Al prossimo Video Ciao Dormi Ciao 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 Grazie per la visione!